ciao ragazze volevo parlarvi di questi di questo rossetto e di questa matita che insieme sono una combo fantastica questo è il rossetto che questo che indosso che è bellissimo secondo me lo puoi abbinare a tutto è molto carino secondo me portabilissimo e questa qui è la matita che secondo me si sposa benissimo insieme mi faccio vedere è sempre questo qui questo rossetto e della urbani che i e lo trovate da sephora è sempre da sephora trovate la matita che è questa qui la scuola c'è questo insieme vi garantisco vedete ve lo faccio qua modo che questo che porto io insieme vedete qua sembra più scura ma in realtà insieme è perfetta nulla la matita costa 2 euro questo costa mi sembra sugli 8 se non vado errata comunque li trovate ancora non li ho presi da poco però li trovate sicuramente ancora e sono veramente belli sono colori attuali portabilissimi e non volevo farvi vedere questi mando un bacione a presto ciao